Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dell'atomo e delle sue proprietà, restando ancora ad un livello elementare, quindi senza entrare nei dettagli delle diverse teorie atomiche. Sappiamo, secondo la teoria atomica di Dalton, che l'atomo era considerata la particella indivisibile e in particolare la più piccola possibile, la più piccola esistente. Tuttavia, negli anni successivi ci furono molti esperimenti che hanno portato a dimostrare che in realtà all'interno dell'atomo sono presenti delle altre particelle chiamate per l'appunto particelle subatomiche. Queste particelle sono dotate di diverse proprietà, per cui una massa e una carica elettrica. Noi individuiamo in particolare tre particelle subatomiche. La prima particella è chiamata elettrone e ha una carica elettrica negativa, una massa molto molto piccola. La seconda particella è chiamata protone e ha invece una carica elettrica positiva, esattamente opposta a quella dell'elettrone. La massa del protone è all'incirca mille volte più grande di quella dell'elettrone. Infine il neutrone, come dice il nome, non possiede carica elettrica, è una particella neutra. La sua massa è praticamente uguale a quella del protone. Quindi, riassumendo, abbiamo due particelle, protone e neutrone, con un'elevata massa e una particella elettrone, con una massa molto molto più piccola. Le particelle con la massa più grande sono il neutrone che non ha nessuna carica e il protone che invece ha una carica positiva. L'elettrone, al contrario, ha una carica negativa esattamente opposta in valore a quella del protone. Gli studi hanno portato anche a identificare, nel corso del tempo, dove sono collocate queste particelle. Infatti, non sono tutte nello stesso posto, dentro l'atomo. L'atomo ha un nucleo, una zona composta dai protoni e dai neutroni. Conseguentemente, il nucleo ha una carica positiva data dai protoni. Un atomo può essere identificato attraverso dei parametri, il più importante dei quali si chiama numero atomico, la cui sigla è Z. Il numero atomico indica il numero di protoni di un certo atomo, ed è una caratteristica assolutamente determinante di quell'atomo. Il numero atomico può essere indicato a fianco del simbolo dell'atomo, solitamente in basso a sinistra. Ad esempio, per l'idrogeno il numero atomico è 1, per il carbonio è 6 e per l'azoto è 7. Una particolarità è che il numero atomico è indissolubilmente legato al tipo di atomo. È una caratteristica distintiva e unica. Cosa vuol dire? Che se noi prendiamo l'idrogeno, l'idrogeno avrà sempre numero atomico 1, e se noi prendiamo l'atomo con numero atomico 6, questo sarà sempre per forza un atomo dell'elemento carbonio. Quindi un elemento ha un numero atomico fisso. Questo numero rappresenta il numero dei protoni totali presenti all'interno degli atomi di quell'elemento. ad esempio, di nuovo, l'azoto, numero atomico 7, se io vado a prendere un atomo di azoto sulla Terra, su Plutone o anche fuori dal Sistema Solare, io andrò ogni volta a contare in quell'atomo 7 protoni esatti. Non 6, non 8, ma sempre 7. Se cambio il numero di protoni, quello che sto facendo di fatto è modificare l'elemento chimico a cui quell'atomo appartiene. Il numero di massa, sigla A, invece, è la somma dei protoni e dei neutroni dell'atomo, cioè di tutte le particelle che costituiscono il suo nucleo. Si chiama numero di massa perché, visto che gli elettroni hanno una massa molto molto più piccola, di fatto non influiscono sulla massa totale dell'atomo, mentre protoni e neutroni si. Quindi, prendendo insieme le due particelle più pesanti, io vado a calcolarmi, in un certo senso, la massa di quell'atomo. Questo numero si può scrivere in alto a sinistra, esattamente sopra al numero atomico. Faccio notare una cosa. Conoscendo il numero di massa, noi possiamo dedurre il numero di protoni e il numero di neutroni. Perché? Il numero di protoni è sempre identico al numero atomico. Ma facendo la differenza tra il numero di massa e il numero atomico, per esclusione otterrò il numero dei neutroni. Quando prendiamo degli atomi dello stesso elemento chimico, quindi con lo stesso numero atomico, ma con numeri di massa diversi, chiamiamo questi atomi isotopi. L'isotopo di fatto è un atomo di un particolare elemento che presenta però un numero diverso di neutroni e avrà quindi un numero di massa differente, pur mantenendo lo stesso numero atomico. Vediamo un esempio, tre isotopi dell'idrogeno. L'idrogeno normale, il deuterio e il trizio. La differenza è nel numero totale di neutroni dentro a questi atomi. L'idrogeno tradizionale non ha nessun neutrone. Il deuterio ne ha soltanto uno, il trizio ne ha due. Come si individua il numero di elettroni? Se l'atomo è neutro, cioè non ha carica elettrica, il numero di elettroni è automaticamente uguale al numero di protoni e quindi di nuovo si va a leggere, per trovare il numero di elettroni, il valore del numero atomico Z. Questo perché in un atomo neutro il numero di cariche positive dentro il nucleo, cioè i protoni, e guaglia il numero di cariche negative all'esterno del nucleo, cioè gli elettroni. Esistono tuttavia degli atomi elettricamente carichi, chiamati ioni. Un'ione quindi è un atomo che possiede un numero di elettroni maggiore o minore rispetto all'atomo neutro, quindi un numero di elettroni maggiore o minore rispetto ai protoni nel nucleo. Se nell'atomo ci sono più protoni che elettroni, prevarranno le cariche positive e l'atomo assumerà il nome di catione. Se al contrario ci sono in un atomo più elettroni che protoni, saranno di più le cariche negative. In questo caso l'ione assume il nome di anione. Per ricordarmi la differenza io utilizzo questo trucco. Penso che mi piacciono molto i gatti e quindi cat ione è positivo. Gli ioni si formano quindi per perdita o guadagno di elettroni rispetto ai normali atomi neutro. Come facciamo a individuare il numero esatto di elettroni? Facciamo un semplice conto. Se un atomo è carico, cioè è un ione, indicherò la carica elettrica in alto a destra rispetto al suo simbolo chimico, come in questo esempio. La carica elettrica mi va a determinare quanti sono gli elettroni rispetto ai protoni. Andiamo ad esempio a vedere. In questo caso, avendo il fluoro una carica negativa, significa che ha un elettrone in più rispetto ai protoni. Infatti per avere carica negativa io devo abbondare con gli elettroni, le particelle negative. Quindi questo atomo avrà 9 protoni indicati dal numero atomico. 19 di numero di massa significa 10 neutroni, la differenza 19 meno 9, e 10 elettroni totali, dati dal 9 numero di protoni più 1. Ho infatti una carica elettrica negativa in più. In questo esempio opposto invece ho preso un catione. In un catione avrò almeno una carica positiva, posso anche averne 2 o 3. Per determinare il numero di elettroni dovrò ricordarmi di sottrarre le cariche positive, poiché per un atomo avere una carica positiva significa avere un maggior numero di protoni e quindi un minor numero di elettroni. il sodio in questo caso avrò 11 protoni dati dal numero Z. 23 meno 11 uguale 12 neutroni dati dalla differenza e per quanto riguarda gli elettroni ne avrò 11 meno 1, cioè 10. Ricordiamoci quindi che quando un atomo ha una carica negativa, il numero degli elettroni negativa aumentato di quel valore corrispettivo. Mentre quando un atomo ha carica positiva, quindi quando è un catione, bisogna ricordarsi di sottrarre la carica elettrica al numero degli elettroni nel conteggio totale. Vi lascio da fare un esercizio riassuntivo per provare a individuare il numero di protoni, neutroni ed elettroni all'interno di questi atom. Grazie a tutti e al prossimo video! Grazie!